E buonasera, buonasera a tutti. Siamo alla diciassettesima puntata di World Record, benvenuti naturalmente, però comincio subito per dirvi che dicendovi che questa è una puntata purtroppo molto particolare e come avrete notato se avete seguito quelle precedenti è innanzitutto una puntata senza sigla, mi sembrava un po' fuori luogo partire con la solita sigla questa sera perché questa è una puntata in memoria di un amico che è scomparso e mi riferisco naturalmente a Dario Parisini, dei Disciplinata, poi Massimo Volume, This is Nine, un personaggio fondamentale nella storia della musica italiana, direi degli ultimi trent'anni e così anche per sentirmi meno solo a parlare di lui ho invitato alcuni ospiti, alcuni amici che vi vorrei presentare. Abbiamo innanzitutto Johnny Veg che molti conoscono per il suo straordinario canale YouTube che è Vinilicamente. Johnny benvenuto. Ciao Marco buonasera, grazie mille per l'invito mi fa molto piacere esserci e poi sono in ottima compagnia quindi... Bene, anche perché non abbiamo nessuna intenzione nonostante l'occasione sia triste di fare un ricordo lacrimoso, vogliamo che sia un ricordo sorridente di Dario e del musicista e dell'uomo ecco e anche per questo ho voluto invitare due persone che hanno avuto lunghe frequentazioni, lunghi rapporti con lui. Innanzitutto mi riferisco a Simone Poletti che è il... chiamarlo grafico è riduttivo, è la mente creativa, è il braccio di Dio diciamo, dietro perlomeno alcuni, poi lui ci dirà magari lavori disciplinata di Scisnine eccetera. Ciao Simone. Ciao Marco, imbarazzatissimo dalla presentazione, sono assolutamente concorde su una cosa, stasera si sorriderà e si riderà tanto credo perché parlare di Dario vuol dire ricordarsi anche tutte le volte che abbiamo riso insieme che era una cosa che con Dario Parisini succedeva almeno tanto spesso quanto il pensare e riflettere. Quindi perdonateci e perdonatemi se sarà una serata in cui sorridere rideremo e rideremo spesso. Ma io sono convinto che questo Dario che in qualche modo perché lui aveva era un uomo particolare, io sono convinto che lui in qualche modo percepirà questa cosa e ne sarà contento. Grazie Simone intanto e vi presento anche l'ultimo ospite ma assolutamente non ultimo in ordine di importanza. Mi riferisco ad Alessandro Cavazza che per chi segue così il mondo disciplinata è un nome piuttosto noto perché tu Alessandro sei stato il regista di quel bellissimo film documentario che si intitola Questa non è un'esercitazione che compie credo dieci anni quest'anno. Confermi? Sì è stata una delle grandi rimesse economiche, però guadagno morale incalcolabile. E' incalcolabile la rimessa economica o il guadagno morale? No 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 il guadagno morale, la rimessa economica è stata relativa. Va bene ok poi avremo modo di parlarne. Come ti dicevo prima quando ci siamo parlati un attimo prima della trasmissione comunque io ho riguardato il tuo documentario ieri sera proprio un po' per prepararmi a questa serata e tra l'altro prima di sapere che tu saresti entrato in trasmissione. Ah c'è una cosa che voglio dire è doveroso questo dirlo e ci sono due persone non è che volevo fare un gruppo come se fossimo a cena ma state valutate diverse opzioni che per vari motivi non hanno potuto intervenire. Uno è Giovanni Rossi che è l'autore della monumentale biografia dei disciplinata che io chiamerei più un libro di storia che una biografia di un gruppo rock che già la definizione di gruppo rock è un po' riduttiva in questo caso e quel capolavoro che si chiama tu meriti il posto che occupi. Ecco Giovanni avrebbe voluto esserci ma ha un impedimento questa sera proprio non non ce la faceva e io lo saluto con tutto il cuore anche se non ci siamo mai conosciuti di persona e ho sentito ieri anche Massimo Zamboni perché mi sarebbe piaciuto tanto che lui intervenisse in quanto fu uno degli attori importantissimi della storia disciplinata quando al secondo album loro entrarono nella scuderia per così dire dei dischi del mulo. Massimo si scusa ma dice guarda ho concerti parto prestissimo la mattina io a luna di notte gnafo sostanzialmente però avrebbe partecipato volentieri quindi Massimo grazie anche a te sarà per un'altra volta anche perché vorrei parlare del suo album. Sentite proprio perché questa è una trasmissione che vuole essere un ricordo affettuoso così come vi ho nominati io partirei da Johnny e faccio a tutti la stessa domanda il tuo primo incontro con Dario Parisini come avvenne? Allora intanto voglio dire che io invidio fortemente Simone e Alessandro perché hanno vissuto insomma parecchio tempo con Parisini cosa che io non ho potuto fare per vari motivi il mio primo incontro è stato alla Contempo Night che si tenne alla vlog quando suonarono i Dishes Nine e io intervistai lui è Cristiano per il canale prima d'ora non l'avevo mai visto in presenza naturalmente e fu già lì un bell'incontro lui veniva febbricitante con il cappello dei russi col bacco come si chiama esatto esatto esattamente insomma proprio tipico Parisini style e fu bello perché anche se ovviamente tutto di corsa quando ci sono tanti artisti che si esibiscono quindi tante interviste da fare comunque fu comunque un bel impatto nel senso che si vedeva che ci saremmo potuti trasmettere qualcosa anche perché noi a quell'epoca c'erano un paio di ragazzi che mi davano una mano avevamo già pubblicato qualcosa su Disciplinate Dishes Nine loro avevano visto avevano apprezzato ci avevano ringraziato e assicuro tutti gli ascoltatori che non è assolutamente scontato che avvenga quindi ecco quella fu la prima volta e poi quella sera fecero un concerto pazzesco si mangiarono la serata ecco scusa Johnny se ti interrompo ma questa cosa che dici è molto curiosa e mi fa piacere perché io non sapevo che quella era stata la tua prima interazione ma quella sera c'ero anch'io quella era la seconda notte di contento esatto e sto andando così a occhio credo fossimo nel febbraio 2019 più o meno fu la notte in cui c'erano per dire Maroccolo con Edda esatto finì anche Zamboni credo con Angela Baraldi eccetera sì sì con la Baraldi che fecero Emilia Paranoica esatto bravo concordo assolutamente al 100% su quello che hai detto fu un concerto che spazzò via mi dispiace dirlo perché poi molti artisti sono amici ma naturalmente erano un altro pianeta io ero sconvolto era proprio un'altra cosa era proprio un'altra cosa infatti la Bolgia ci fu solo durante i DC's Nine che si erano portati o meglio erano stati raggiunti dai fan di vecchia data di disciplinata il loro set fu memorabile tra l'altro per me molto emozionante perché li presentai io quindi è un doppio affettuoso ricordo ecco questo che mi lega ai disciplinati e poi da lì è stato amore amore fino che continuerà fino non lo so fino a quando insomma nell'eternità è stato un colpo di fulmine per me perlomeno certo allora un rapporto invece di data molto più lunga Simone come è iniziato il tuo rapporto con il gruppo ma con Dario in particolare allora di data meno lunga di quanto avrei voluto in realtà perché avrei voluto essere il grafico di disciplinata dall'inizio ma non era possibile fare l'altro aveva davvero un bambino un ragazzino diciamo Scusa Simone scusa ti interrompo e ti lancio una provocazione quindi tu mi dici che avresti voluto per esempio firmare la famosa copertina coi due balilla assolutamente allora non sarei stato in grado non sarei mai stato in grado di fare la grafica di abbiamo pazientato 40 anni ora basta meglio di com'era quindi lasciamola dov'è non tocchiamola no 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 ma io 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 volevo romperti le palle perché volevo farti la battuta allora sei fascista perché questo è il problema oddio mamma perché io me ne sono sentite tutti i colori in questi giorni perché faccio questa diretta ed è una cosa che mi ripugna quindi ecco ma ne parleremo scusa vai avanti allora in cominciso dall'inizio molto velocemente io ho incontrato Dario via mail prima di tutto perché stavo facendo le grafiche per le copertine di un'altra band che se ne senti da dire di tutti i colori che è Yanua di Genova e Renato Carpaneto è molto amico di Dario e ha girato la mia email a Dario Parisini che mi scrive e mi dice ciao mi chiamo Dario sono il chitarrista di una band di Bologna ci chiamavamo Disciplinata non so se per caso ci conosci avrei bisogno di contattarti perché vorremmo fare la grafica per un cofane tanto logico io mi sono rotolato letteralmente in terra perché una delle prime cassettine che mi hanno girato a scuola era una cassettina nella quale c'era abbiamo pazientato 40 anni i Laiba che è i Battle Surfers e l'ho ascoltata fino a consumarla quella cassettina quindi per me erano una roba incredibile cioè disciplinata per me erano la formazione della mia gioventù da punk e poi metallaro e gli ho risposto mi ricordo con un email che era una specie di flusso di coscienza lunghissimo poi nel tempo ho scoperto che Dario odiava leggere le email molto lunghe quindi penso di avergli dato un fastidio infinito però gli ho risposto mi ricordo con un flusso di coscienza infinito una mail di quelle incredibili senza virgole perché ero troppo agitato e poi ci siamo incontrati in ufficio da me per incominciare a parlare di quella che poi è stata la confezione di Tesori della Patria del cofanetto antologico disciplinata è stata dalla prima sera una di quegli incontri che dice c'è qualcosa in questa persona che ho trovato qualcosa che stavo cercando da tempo perché intanto Dario Parisini dall'alto dell'intelligenza di cui parlavamo prima della incredibile intelligenza di Dario ha sempre trattato tutti da pari e questa è una cosa che io ho apprezzato confermo e devo dire che è stato dal primo giorno, dalla prima sera difficilissimo interagire con una persona che a me intimidiva molto nel senso che faceva dei ragionamenti ad un livello che mi costringeva a usare una percentuale superiore del cervello da quella che avevo usato fino a quel momento ed era complicato però devo dire che è stata dalla prima sera una scoperta la scoperta di una persona piacevolissima divertente ironica con un'intelligenza superiore alla media e una cosa che io vorrei aggiungere non so se tu sei d'accordo al di là di di un'ironia tagliente che lui aveva eccetera ma di straordinaria dolcezza allo stesso modo aveva una sua dolcezza umana che veniva fuori in maniera abbastanza chiara lo vedevi in come ti considerava in realtà assolutamente Dario era in grado di tagliarti in due con una frase e di tagliarti in due con un'espressione o con un'attenzione che non ti aspettavi esatto quello assolutamente beh credo che toccherebbe ad Alessandro e tu come hai iniziato tutto allora fu un comune amico che me lo presentò una sera a un festival a Bologna e entrammo subito in sintonia ma in che senso io capì subito a rispetto del fatto che oggettivamente io metto Dario nel mio pantheon dei chitarristi assieme a Jimi Hendrix e non lo dico alla memoria io l'ho io l'ho sempre detto anche di persona ma ho capito subito che per poterci scambiare una chiacchiere in più non era il caso di fare il paggio e abbiamo parlato di tutto tranne che di musica il giorno dopo questo mio amico mi disse oh ieri ho parlato con Dario ha detto intelligente quel cavazza io ho capito che ero stato ammesso al Reichstag esatto sì 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 è interessante e scusa e questo in che periodo avveniva più o meno primi anni 2000 penso fosse il 2003 credo quindi tra il 2003 e il 2004 credo in questo momento sei il vecchio del gruppo ecco diciamo quello che ha avuto il rapporto più lungo in sostanza sì sì beh anche per una facilità logistica sotto a Bologna una cosa di cose certo ma se volete vi dico io in due parole allora io avevo visto disciplinata all'epoca i tempi d'oro e poi avevo perso completamente quest'onda io dei Dishes Nine onestamente non sapevo neanche l'esistenza l'ho saputo perché collaboravo all'epoca cioè collaboro tuttora ma tramite Gianni Maroccolo ero arrivato a collaborare lateralmente con Contempo Records e ok è uscito questa cosa perché ma io non l'avevo neppure ascoltata lo sapevo e quindi il mio primo incontro fisico con lui quando ci scambiamo due parole anche se l'avevo visto sul palco in passato fu nella stessa occasione di Johnny e devo dire faccio coming out da quel punto di vista io fui totalmente terrorizzato da Dario perché lui era un animale da palcoscenico pazzesco a parte che il set fu straordinario come abbiamo già detto ma c'è un altro dettaglio molto importante che io veni flashato anche dalla sua presenza fisica e io quella sera facevo delle fotografie credo di aver scattato a mio modo di vedere una delle migliori foto live che io abbia mai fatto è una foto di Dario che tra l'altro è quella che ho pubblicato il giorno dopo che lui è mancato però attenzione siccome questa è una trasmissione di musica e stiamo parlando di quel concerto alla vlog sarebbe il caso di far sentire ai nostri ascoltatori e quindi procederei in questo senso come iniziò quel concerto e come di fatto inizia anche il il famoso EP dei Dishes Nine che tra l'altro io neanche mi rendo conto vi devo dire che è un EP perché è così denso che alla fine io lo vivo come un album nonostante duri credo 27 o 28 minuti quindi io interromperei la chiacchierata che poi riprendiamo per 5 minuti e manderei subito questo primo brano che è la chiave della libertà siccome a me piace mettere un po' in luce anche le faccende stilistiche questo questo brano poi magari vi racconterò un aneddoto su un suo aspetto è un mix di due elementi apparentemente come l'acqua e l'olio che non dovrebbero mescolarsi ovvero un coro alpino io essendo trentino ho una tradizione ho registrato decine di cori alpini questo è il coro Monte Calisio che io conosco bene e un sound pazzesco secondo me unico che è come chiamarlo industrial dark non lo so è sound dei di Cisnein ma comunque sentirete che il coro che pervade praticamente tutta la canzone si mescola in maniera strepitosa con questa chiamiamola base per essere riduttivi con l'arrangiamento che va in una direzione completamente diversa e se pensate che sia facile ve lo dico da produttore vi sbagliate di grosso ascoltiamo la chiave della libertà a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il calibro registra solo il fuoto, le forme, le funzioni sono finite. Grazie a tutti. 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 è nato, credo, con la necessità di tornare a dire qualcosa dopo un sacco di tempo e di farlo con dei codici e con un linguaggio che Dario, Cristiano e Marco sentivano più loro, diciamo così. Infatti è anche un disco diversissimo, non tanto dall'immaginario, ma dal mondo sonoro che è peraltro molto variegato, a cui disciplinata ci avevano abituato nell'arco della loro carriera che poi non è stata lunga, ma non è stata popolata di album, perché alla fine hanno prodotto tutto sommato poco per un periodo del genere. Ma io ti posso dire, ha detto ai lavori, che una cosa che io trovo sconcertante è la qualità sonora di questo album, che è spaventosa. Io sento una cura di produzione oserei dire maniacale e tra l'altro si evita l'effetto noia che a volte c'è nelle produzioni che sono troppo levigate. Levigate non intendo fighette, intendo troppo curate, perché si tende a perdere spontaneità, mentre questo album suona meravigliosamente e ha un calore tutto suo. Cioè il genere è diversissimo, ma ti faccio un paragone. Una cosa che mi sconvolge è il suono dei Rammstein, che è incredibile quando l'ascolti su un buon impianto. Questo è uguale. Credo che Cristiano abbia fatto un lavoro clamoroso su questo disco, ma non ha le capacità, diciamo, non ha la cultura musicale per giudicarlo. Però obiettivamente c'è una cura assolutamente maniacale di tutto. Ma guarda, Cristiano ha delle doti professionali che sono straordinarie. Io lo considero uno dei migliori, non so se chiamarlo produttore, tecnico del suono, sound designer, che abbiamo sul mercato adesso. C'è un altro album che ha curato lui, che non ha nulla a che fare con questo, che io ho seguito a vicino, che è Del mare la distanza di Miro Sassolini e siamo su questo livello. Io appena ho sentito addirittura i premix dell'album, perché lì l'artwork te l'ho rubato, Simone Poletti era mio e così abbiamo, io c'ero rimasto abbastanza di sasso, ti dirò. No, l'aneddoto che volevo raccontarvi io, che è interessante, sto andando un po' a memoria, potrei sbagliare il giorno, ma il mese e l'anno sono giusti. Dunque, credo il 10 e l'11 marzo, o poteva essere l'11 e il 12, non lo so, dovrei andare a vedere. Del 2016 io ero a seguito di Gianni Maroccolo, perché con il suo tour che era Nulla è andato perso, o meglio VDB23 Nulla è andato perso, facemmo una doppia data al circolo ribalta di Vignola. E qui faccio una piccola parentesi, perché come credo tutti sappiate, il circolo come sede perlomeno storica ha chiuso proprio sabato scorso e guarda caso il giorno, il funerale di Dario. Io non ho potuto essere né al funerale né tantomeno alla festa di chiusura. E anche questo è un dispiacere perché era una realtà piccola ma fondamentale e straordinaria, secondo me. E sono certo che i ragazzi andranno avanti per altre strade, hanno semplicemente perso un luogo, però insomma dispiace. Ecco, stavamo lì prima del primo concerto e a un certo punto io arrivai e c'era Cristiano Santini che era andato a parlare con Maroccolo tra l'altro proprio perché voleva coinvolgerlo nel progetto di Miro Sassolini. Infatti Maroccolo ha suonato le parti su quel disco, quello che ho appena menzionato. E chiacchierando così venne fuori che io ero trentino, era la prima volta che parlavo vis-à-vis con Cristiano e lui mi disse, ma sai devo venire in Trentino a registrare un coro. E io dissi, boh, chissà perché. Dice, ma sì c'è un progetto a cui stiamo lavorando. Quando poi ho sentito di Scis9 ho detto, ah però, ecco cos'era. Quindi questa cosa, che poi è uscita parecchio tempo dopo, era già in fase di realizzazione nel 2016, pensate. Quando si parla di genesi lunghe in sostanza. Alessandro, tu sei forse più sul fronte disciplinata che di Scis9. Hai avuto un ruolo anche semplicemente a livello di interlocutore? Hai seguito in qualche modo la nascita di questo disco che stiamo ascoltando? Beh, allora sì, delle chiacchierate fatte con Dario, ma io già in quella fase ero più laterale, nel senso che a seguito delle lavorazioni per il documentario ho dovuto scegliere, perché ho meno pazienza di Poletti, se volevo essere amico di Dario o collaboratore di Dario ho sicuramente scelto di essere amico. E quindi in quel caso lì c'erano delle chiacchierate in giro dove si parlava magari dell'immaginario, cosa inserire, ma come sempre Dario aveva le idee abbastanza chiare, insomma. Dario, Marco, questa cosa che si dimentica sempre, in realtà è un gruppo con le idee chiare che si articola, come posso dire, attraverso delle staffette, uno dice una cosa, poi uno dice un'altra, diventa anche difficile a volte capire di chi è l'idea, perché tutto nasce molto spesso da un processo collettivo, da un lato, poi arrivava Dario che giocava il carico e quello era un altro discorso. Quindi in quel caso lì ho partecipato emotivamente molto al discorso che trovavo molto opportuno dell'inserimento dei cori degli alpini, perché questo rientrava comunque nello sdoganare un concetto di militarismo popolare, che secondo me era uno dei pallini di Dario, era un discorso giusto, cioè il popolo deve essere forte, infatti hanno tolto le armi al popolo e stiamo, come dire, un po' subendo l'insubibile di questa cosa con Dario ne parlavamo spesso. Certo. Johnny, io ti considero, te lo dico molto sinceramente, uno dei più acuti critici. Addirittura. Magari poi io e te non ci sentiamo spesso, ma io ti seguo sempre. Mi piacerebbe che tu facessi un commentino su quello che tu senti nei confronti di questo album e magari se hai delle idee, perché io confesso di averne alcune e ben confuse. Sui testi, che io trovo straordinari, c'è un messaggio fortissimo in questi testi, non sono messi lì per cantare una melodia, semplicemente. Tu cosa ne pensi? Partendo dall'ultima considerazione, assolutamente, i testi non sono di un disco italiano comunemente pubblicato oggi in Italia. Ovviamente c'è la partecipazione di Yanva, Renato Carpaneto, che collabora con Dario Parisini. Quelle sono un'opera nell'opera. Dal punto di vista del disco, complessivamente, è qualcosa, secondo me si ritorna ovviamente in modo diverso a quello che fecero, e con un impatto diverso per motivi vari, a quello che fecero nell'88. abbiamo pazientato con l'EP, anche quelli erano sei pezzi, anche quello era un disco colorato. Infatti cosa ci hanno scritto qui dietro, nella copertina del vinile? 88-18, quindi trentennale della prima pubblicazione dei Disciplinata. Perché dico che sono epoche diverse, ovviamente impatti diversi e messaggi diversi. Innanzitutto per il music business di oggi, comunque contemporaneo, pensare di fare un disco alla disciplinata prima maniera, perché magari qualche fan si è anche risentito, sarebbe stato impossibile. Cioè sarebbe stato un suicidio ancora prima di venire pubblicati. però l'impatto è stato comunque forte, perché oggi chi è che riesce ad avere una rilevanza nazionale naturalmente dovuta al background disciplinata? Ovviamente. E poi riesce a creare qualcosa di così inusuale. Chi c'è in Italia? Chi c'è? I Discis9 c'erano. Certo. Sono totalmente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo su questo. E infatti io, ti dico la verità, aspettavo con ansia, con aspettativa un capitolo successivo che temo non potrà esistere. Perché non possiamo pensare di sostituire Dario Parisini. No, no, assolutamente. È impossibile. Assolutamente. Faccio una battuta, si può sostituire Charlie Watts, ma non si può togliere Keith Richards. Ecco, quindi... No, no, è vero, sono d'accordo. Io sapevo le ultime volte che ce l'avamo sentiti per le loro cose produttive, stavano pensando di far uscire qualche remix. e avevo ascoltato il remix di Eva, se non sbaglio. Anch'io, sì, ce l'ho anch'io, sì. Insomma, tra l'altro tanta roba, però poi appunto tra pignolerie, problemi vari, tra Covid, problemi di salute vari, si deve essere arenato tutto. Poi queste cose sicuramente le sa Cristiano, che è il polso della situazione. Io non sono aggiornato. Spero che qualcosa comunque uscirà, spero che ci sia... Magari Simone è più consapevole di noi su una futura pubblicazione curata da lui dal punto di vista grafico e magari nei testi, nell'introduzione da Cavazza con i suoi improperi, ecco. Ma sai, c'è una cosa da dire che, e questo è un fatto tristemente storico, se vogliamo parlare del famoso cofanetto, anche qua il termine è riduttivo, il box, il manufatto, ecco, lo chiamerei, tesori della patria, quel lavoro è stato, esatto, ecco, quel lavoro è stato, e mi riferisco alla versione in vinile, quella prodotta con Tempo Records. Ah, quell'altra, sì. Ecco, quella clamorosa, che vi farei vedere perché ce l'ho qua, ma non siamo in video, ecco. E ecco, lì purtroppo c'è una coincidenza di date assurda, perché quella monumentale uscita è stata totalmente affondata dal Covid. Esattamente, mi ricordo che fu, scusa se ti interrompo Marco, fu l'ultima volta, o la penultima volta in cui andai da con Tempo, perché era iniziato comunque a circolare il Covid, ma ancora non, diciamo che non c'erano le norme, mascherine, eccetera, eccetera, e andai proprio a ritirare il cofanetto tesori della patria, versione vinile, dove però manca, dove però manca, e questa cosa gliela dissi, poi io non voglio avere spiegazioni, manca il documentario di Cavazza, che è una cosa fondamentale invece, però tanto c'è un canale YouTube creato apposta, quindi io l'ho postato anche l'altro giorno, l'hai postato anche te, quindi chi vuole può guardarsi il miglior documentario musicale italiano. Pensa che, Alessandro, pensa che il tuo film... No, te l'ho sempre detto, quindi lo sai che lo penso. Io ce l'ho in DVD solo perché Antonella me ne ha regalato una copia di quelle che tenevano il cassetto per la posterità, come dicono gli inglesi, ecco, insomma, era assolutamente irreperibile, sarebbe stato proprio l'occasione di metterlo fuori, anche perché sinceramente su un'operazione del genere il costo sarebbe stato abbastanza contenuto, diciamo, mettere un supporto digitale in più su tanto vinile, non costava nulla. Tra parentesi, se volete una memoria che per me è un po' triste perché ci rimanda proprio al periodo del lockdown, ma non so se avete mai notato che in una delle foto che è stata usata per promuovere questo cofanetto, peccato che eravamo tutti chiusi in casa, era in mano a un ragazzino di cui si vedevano gli occhi e c'era Tesori della Patria sotto. Ecco, sappiate che quel ragazzino che allora era mio figlio, perché quello che avvenne fu che a un certo punto, credo Cristiano o Antonella, uno dei due, tra la compagna di Cristiano, per chi non lo sapesse, mi contattò dicendo, ascolta, siamo messi male, nel senso che qua stanno chiudendo tutto, non abbiamo neppure una foto fatta bene del cofanetto, tu ce l'hai, potresti farci qualche foto? E io che ero totalmente disoccupato, misi il cofanetto su un fondo nero, anche perché tra l'altro chi non lo conoscesse, poi magari Simone ci spieghi quanto fu difficile, è un nero su nero, una cosa difficilissima da fotografare, orrendamente difficile, e feci delle foto in studio qui da me e a un certo punto ebbi l'idea di metterle in mano mio figlio e a loro piacque molto questa cosa e usarono anche quella foto, ecco quindi pensa che quelle foto promozionali risalgono proprio al lockdown, figurati. Simone, tecnicamente senza entrare senza entrare in cose che poi magari gli ascoltatori non interessano, ma era molto coraggioso il tuo lavoro, perché il nero su nero è una brutta bestia. Allora, ti rubo tre minuti perché partiamo da prima. La prima edizione di quel cofanetto è quella in cd, che è una roba incredibile nata proprio con Dario, andando veramente a scavare, cercare, doveva essere qualcosa, un manufatto autarchico è stato definito, doveva essere qualcosa di assolutamente fatto a mano, creato il più possibile, tant'è che nella prima edizione la copertina è serigrafata a mano, tutti i bulloni che ci sono ce li siamo avvitati con le disciplinata insieme, cioè quel cofanetto è stato confezionato da Dario Parisini, da Marco Maiani, Marco all'interno di quel cofanetto ci sono dei pezzettini di cemento e ho l'immagine vividissima di Marco Maiani che a martellate sul tavolo distrugge un enorme pezzo di cemento, che l'abbiamo veramente confezionato a mano ed è stata una roba assolutamente incredibile, con una genesi che io mi ricordo molto bene, perché poi si è ripetuta anche con DC's Nine, perché una delle cose che mi ha detto più spesso Dario è, mi diceva molto spesso, è troppo disciplinata e dicevo, scusate la parola, cazzo Dario è disciplinata, deve essere disciplinata, sì ma non devi fare la coppia di una roba disciplinata, devi fare una roba tua e io so che puoi fare di più, so che puoi fare di più, me lo tatuo perché è una cosa che Dario mi avrà detto mille volte, alla fine però questa cosa ha portato a evolvere in continuazione, a cercare di migliorare, a cercare di farlo sempre meglio. Quando poi ci siamo trovati a dover fare le disegni in vinile c'era un problema materiale che era rendere una roba serigrafata a mano a tre colori su cartone, renderla in una copertina stampata e allo stesso tempo c'era la voglia di non farlo uguale, quindi il punto e lì devo dire che l'idea è uscita da Dario, potremmo fare una cosa tono su tono, grigio scuro su nero e io ho detto guarda, si potrebbe pensare invece di fare una riserva serigrafica e quindi di stampare nero lucido su nero opaco. Penso che quelli di contempo ci abbiano odiato alla follia perché credo che gli sia costato tantissima fatica oltre che un sacco di soldi fare quella cosa e quindi è stata una scelta proprio di mini rottura nei confronti del primo cofanetto di quello diciamo in cd per avere comunque un oggetto in ogni caso unico con poi la necessità di risolvere una serie di problemi tecnici ma quelli diciamo che interessano relativamente. Però in tutto questo c'è sempre stato un lavoro di cesello in tutto nell'andare a cercare ogni singolo dettaglio, discutere ogni singolo dettaglio per ore come diceva prima Alessandro giustamente giocandoci molto, cioè con davvero tanto il gioco della battuta che poi diventava qualcosa di più serio, che poi diventava un concetto estremamente serio e pesante ed è capitato anche più volte di dire a Dario guarda che io lo faccio davvero, ce la scrivo davvero questa cosa all'interno del libretto nella copertina. Io mi ricordo che una sera Dario mi ha detto cosa stai aspettando? Quel cosa stai aspettando per me è stato un interruttore devastante. Infatti secondo me è proprio qui la bellezza dei Disciplinata e dei Disci's Nine poi, perché nessuno dal punto di vista musicale poi in Italia che ha avuto ripeto una certa rilevanza ha mai osato tanto, quindi insomma hanno portato la dialettica della composizione musicale italiana a un altro livello. Purtroppo siamo in Italia per cui poi è stata sempre utilizzata per le classiche parrocchie che venivano citate nel documentario di Cavazzo. Sai Johnny, chi poteva aspirare a essere in prospettiva così dirompente ma poi presero un'altra strada? Io me lo ricordo molto bene ma siamo in pochi a ricordarcelo perché il loro relativamente grande successo arrivo dopo. Gli scisma della prima generazione. Ah sì. Gli scisma pre con chi stavano? Emi, Sony non me lo ricordo. Emi, Emi, Emi. Ecco pre Rosemary Plexiglass. Io ti assicuro che ho visto coi miei occhi e guarda che ero eccitato da questa cosa in una qualche festa in provincia di Brescia che gli staccarono la corrente sul palco per interrompere il concerto. Io pensai correva il 93 probabilmente che se nel 1993 era ancora così scomodo vedere certe cose perché erano incredibili, erano molto molto vicini non tanto come iconografia ma come potenza emotiva ai primi cccp. C'era una chiara ispirazione e ti dico cosa accadde che ci fu una simulazione peraltro completamente vestita di un rapporto omosessuale sul palcoscenico e a quel punto chissà perché saltò la luce. Ecco. Io mi sento di intervenire con buona pace degli scisma e io ho disciplinato ho visto le camionette della polizia con gli agenti in tenuta antisommossa. Ah lo sappiamo certo certo. Di chi si esalta per due checchi. Ma proprio tu Alessandro volevo chiederti una cosa perché è una mia convinzione ma potrebbe essere e come tale è un'opinione insomma potrebbe essere completamente sbagliata. Io credo che sia impossibile comprendere l'immaginario dei cccp. Tu sei d'accordo? In parte sì, in parte è una cosa giusta, è una cosa vera ma credo che l'identità tra cccp e disciplinata sia in realtà ancora più, come posso dire, sottile. Essenzialmente erano inconsapevolmente e disciplinata, più consapevolmente cccp erano due esperienze profondamente antimoderne, nel senso che avevano queste nostalgie estetiche per una modernità tutta di un pezzo dove le cose erano chiare, definite, magari retoriche però in un qualche modo collettive rispetto allo spappolamento del consumismo che tutti vivevano. Quello che Renato Mersi definisce la Emilia Lesta di badile, di fucile. C'era questa nostalgia per un mondo magari più crudele ma più intellegibile e questo spirito antimoderno io lo trovo, dice Cisenai negli alpini, non a caso i testi meravigliosi di Renato, le sue frasi che comunque hanno queste evocazioni quasi dall'aldilà. Secondo me questa è la vera cifra che li unisce, c'è una nostalgia per un mondo più chiaro, meno ipocrita. Un mondo nuovo, scusami, citando. C'è una parola, è frontalità. Bravo, bravo. Sempre stati estremamente frontali e diretti, quello che i disciplinata e i Cisdain hanno sempre fatto è dire esattamente quello che pensavano senza tanti filtri e senza tanti giri di parole, mettiamola così. Ma tra l'altro io ecco, ci tengo a specificare perché non vorrei che venisse frainteso quello che ho detto, io non sto insinuando che i disciplinata stessero copiando in qualche modo l'idea di CCP. Sto pensando piuttosto al fatto che io li vedo come, se pensiamo in termini fotografici, un positivo e un negativo, come due facce se vogliamo della stessa medaglia che però poi avevano manifestazioni anche molto molto diverse. E a questo punto io vorrei ascoltare il secondo brano dell'EP e di questo vi devo raccontare una cosa, questa è di nuovo storia, ahinoi, abbastanza recente. Il mio penultimo concerto pre-Covid fu il 24 di gennaio del 2020, quindi c'eravamo in mezzo fino al collo, senza saperlo, all'Oibo di Milano e furono proprio i 10-9. Dico il penultimo perché ce ne fu uno cinque giorni dopo, il 29, sempre a Milano, andai a vedere Giulio Casale e quella sera praticamente eravamo alla vigilia del chiudi tutto. Io arrivai prima, avevo sentito Cristiano e gli avevo detto guarda che vengo a trovarvi e assistetti a parte delle prove, poi il concerto fu bellissimo, anche se un po' soffrì a causa del fatto che il palco piccolo, i visual non erano dominanti come per esempio Johnny li avevamo visti alla Flog dove erano straordinari. Vi dico questo, sentì la prova di questo brano che sto per mandare e poi a un certo punto, dieci minuti dopo, uscì a comprarmi le sigarette o qualcosa del genere. No, andai al banco, in perfetto stile consumistico e mi resi conto che chi conosce Milano sa che l'Oibo era, perché credo non ci sia più di fatto che abbia chiuso, era in Zola Piazzale Lodi, quindi non esattamente la parte più romantica di Milano. È un casino quella zona, sia a livello di traffico, di persone, di etnie, di tutti i generi che si mescolano. Non è proprio bello, soprattutto la sera. E mi resi conto che ero esattamente all'interno del brano. Provate ad ascoltarlo, ascoltare il testo e vi assicuro che fu un film pazzesco perché ce l'avevo in testa e di colpo divenne una cosa materiale, tridimensionale davanti ai miei occhi. Il brano si chiama Toxin. Un'alba iconoclastica, dopo una notte urbana. Nell'art contraccettivi, l'erba nigeriana. Motori per compressi, che bruciano puliti. Tatuaggi nei altri bani, olimani e solfiti. La bamba proletaria, che poi ci scoppa il morto. Fa il pieno di tossine, cibo etnico, lo sporto. Si dure cicatrici, diacre, medio, grave. Il corpo è una carera. E non hai tu una chiave. Toxin. Toxin. Il lungo mare asfittico, che in larga non si abonda. Cadavere migrante, che in tondola sull'onda. Disprezza fuori vanno, che in bocca che ha stermino. Essenze per l'ambiente, lavanda, grummi e pino. Policomia sessuale, gioiosa e indefinita. Ho piori di palliativi, per il tuo fine vita. Toxin. 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 La festa sta finendo, lo stupido ombelico sul quale ballavate. Non è più tanto amico, è il fidacus studiare. Chi già se n'era accorto, ormai lo si può dire, la ragione aveva torto. Ebbè, tanta tanta roba. Ma vogliamo spendere due parole su questo chitarrista, ragazzi? Cioè, lui era stratosferico, non solo come tecnica che indubbiamente era sopraffina, ma a livello di scelta dei suoni. Io non so dove andava a pensare certe cose. Johnny, tu che pensi? Senti, io mi rimetto a quello che ha detto qualcuno più saggio e più esperto di me, ossia Franco Battiato. Lui diceva che era il suo chitarrista preferito italiano. Quindi, di questo Parisimi credo fosse molto orgoglioso. straordinario, non c'è nient'altro da dire. Io proprio ieri, parlando con Alessandro, in una chat su Facebook, ho ascoltato il suo chitarrismo. Che pezzo era, Alessandro? C'era un pezzo dei Pooh e un pezzo di Viola Valentino. Viola Valentino, che non mi ricordo che pezzo era, ma il suo unico successo e il genio di Parisini si esprimeva anche in questo modo. Cioè, mettere il suo chitarrismo, che lo riconosci subito, se conosci Parisini, in coda a un brano poppettoso anni Ottanta. E la cosa bella è che funziona. Gianni, spiego un attimo il ritroscena di questo brano. In realtà erano quei brani che Dario mandava al tempo tramite mail, non vorrei dire una sciocchezza, durante le sue notti in sonno. Li mandavo a un gruppo di amici e io ogni tanto facevo questi montaggi. Una volta mi fece, per dire, primo giorno di riprese del documentario, si presentò alle 5 della mattina a casa mia, con un pezzo dei ministri e sotto Bracardi che diceva Tra, tra, tra! Facciamo queste cose. Che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Non lascia i redi, ecco, Parisini, non lascia i redi anche perché in Italia, insomma, gli artisti si guardano bene da limitare ciò che è stato schifato per 30 anni. Schifato nel senso popolare del termine. Sì, sì, ho capito, ho capito, certo, assolutamente. Quindi, ecco, inimitabile, poi dei lampi di genio pazzeschi, e poi le conversazioni anche con Alessandro, perché con Simone non ho avuto modo di interagire prima di questa sera, mi dimostrano, mi hanno dimostrato quello che avevo intuito, cioè che lui fosse proprio una manifestazione incredibile di alto e basso insieme, che poi è l'essere umano, quindi, e lo faceva con una naturalezza che ti spiazzava, perché noi siamo sempre, abbiamo sempre tanti schemi, tante gabbie, ci facciamo tante seghe mentali, e lui ci liberava un po' da queste seghe mentali, quindi musicalmente e umanamente. Ma sai cosa, io credo che, qui sto improvvisando, cioè sto mettendo in maniera forzosa, indubbiamente, un pensiero, diciamo, che secondo me si adatta a come era Dario, ma non ho nessun modo di sapere se è vero, ma, anzi, criticatemi. Secondo me, per lui era vera l'affermazione che io ho sentito fare una volta a Riccardo Sinigallia, poco tempo fa, durante una serata abbiamo fatto insieme, ha detto una cosa bellissima, ha detto, la musica che io posso ascoltare può essere ricadere solo in due categorie, o essere assolutamente pura, o essere assolutamente corrotta. E secondo me, questo, anche da questi, tra virgolette, scherzi che Alessandro sta descrivendo, mi sembra che sia una delle possibili chiavi di lettura. era pronto a prendere per il culo qualunque, per dirla in maniera chiara, ma era iper serio in quello che faceva lui, non avrebbe accettato un permesso in nessuna maniera, in quel senso, musica pura, ecco, non perché poi si possa stabilire chiaramente una classifica, ecco. Assolutamente, concordo con la tua impressione. Ma poi, io posso anche dire, se vogliamo andare a scavare un po' nel passato, nonostante questa sia, questa trasmissione sia di fatto dedicata a Dishisnein, e il, io per primo, quando uscì, abbiamo appazientato 40 anni, lì per lì non fui particolarmente convinto, cioè, intendo, musicalmente impressionatissimo, ma ero io stesso un attimo disturbato da certe scelte. Io ricordo, tra l'altro, una recensione, sto andando a memoria, di Daniela Amenta, credo sul Mucchio Selvaggio. Sì, lei scriveva sul Mucchio. Che fu molto netta e tranchant nei confronti di Disciplinata, e li definì quei cazzari dei Disciplinata. Sì, non li hanno mai amati. No, ma ovviamente riferendosi proprio a questo utilizzo provocatorio che veniva fatto di un immaginario e di un'iconografia, se vogliamo. Quando poi tornai, perché a me piace tornare sui dischi, anche quelli che mi spiazzano, io gli do sempre una seconda chance. E proprio in funzione della recensione che Daniela aveva fatto, io dissi, aspetta un attimo. Lei mi piaceva quando scriveva, aveva delle idee precise, cioè andavamo d'accordo. Io come lettore la stimavo molto, ma allo stesso tempo, ti dico la verità, pensai, secondo me stavolta hai scazzato. Cioè questo non hai capito di che cosa stavi scrivendo, perché cominciai a intravedere che non era tutto così chiaro. Alessandro, ti posso fare una domanda un po' provocatoria? Devi. Parliamo di questo caso che si trascina ormai da non so più quanti anni. Parliamo della famosa citazione di Francesca Mambro in quel disco, perché io ho un'idea abbastanza precisa su questa cosa. È stata sviscerata, sappiamo che ci sono stati dei retroscena anche abbastanza truci. Tu cosa avresti da dire? Guarda, te la dico con una formula molto breve, forse la Pariosini. I NAR, cioè il gruppo armato della Mambro e Fioravanti, erano i punk del brigatismo. Certo, da quel punto di vista sì. Ma io sto pensando soprattutto a un fatto che, ti dico, non ho neanche messo a fuoco di colpo, quando per la prima volta mi imbattei in questa polemica. Non dobbiamo dimenticare che c'è una provenienza geografica, cioè stiamo parlando della città di Bologna. E la città di Bologna nel 1980 sappiamo tutti che cosa ha subito. E io credo che, follia conclamata ed estremismi a parte, la condanna di un gesto del genere debba essere bipartisan. Questo è evidente, cioè far saltare in aria una stazione ammazzando decine di persone non è una cosa accettabile a livello politico, se non in un'ottica terroristica, evidentemente. Ma allo stesso tempo è chiaro, e credo che i ragazzi disciplinata fossero assolutamente, come bolognesi, coscienti di questa cosa, anche a pelle oltre che razionalmente, che andare a fare una citazione del genere era andare a infilare non un dito, non un pugno, ma un Chris Malesi in una ferita aperta e che per forza era divisiva questa cosa, secondo me. Proprio perché era una violazione di una regola, sostanzialmente, che non si sarebbe dovuto toccare. E da quel punto di vista, io non vedo questo come una identificazione con quell'ideologia, ma come un atto di enorme coraggio, che è un po', secondo me, il motivo principale di azione, come lo vedo io, perlomeno in maniera assolutamente modesta, la mia lettura è disciplinata, è che loro in realtà hanno continuato a dire guardate che questa cosa che vi fa schifo siete voi in realtà. Cioè questo era il... Voi siete d'accordo con quest'analisi? Allora, da un lato sì, ma c'è anche un altro dato, che è proprio un dato storico. Prima ancora disciplinata, il gruppo Raf Punk di Bologna, dove c'era Velena, sostanzialmente, come cantante, già aveva messo, ad esempio, in dubbio, in modo punk e provocatorio, la paternità fascista dell'attentato, al netto delle ricostruzioni, ovviamente, dei magistrati, però al tempo, nell'ambito punk, era stato avanzato questo dubbio, quindi in parte, secondo me, questa fascinazione, tra virgolette, per questo tema, un po' era anche legato alla supervisione di Elena Velena, al tempo Giampi, che effettivamente vibrava molto su certi temi. Ti faccio un esempio, quando abbiamo fatto il documentario, ha parlato su un'ora e mezza di registrazione di un'ora di brigatismo e mezz'ora di disciplinata. Beh, ma voi tutti avete letto il libro, Elena Velena va a lunghezze estreme per prendersi. Lei rivendica la paternità di certe cose che erano scritte proprio nel disco, dicendo, questo non l'hanno scritto di disciplinata, ho scritto io, nel senso che era il disco della mia, e questo era quello che io volevo dire. Essenzialmente, tutto si traduce in questo, ecco. Ma comunque, beh, mi pare che stiamo, è incredibile, ma aspettate che controllo sul mio timer, è un'ora e tre minuti che stiamo chiacchierando. e allora io direi di ascoltare un altro brano, andiamo sempre in ordine, è il terzo dell'EP, e questo è l'Ultima Notte. Tra l'altro, questo mi è molto familiare, appena l'ho sentito ho detto, eccolo qua, perché l'Ultima Notte, come tutti sapete, è davvero il titolo e anche parte del testo di un brano alpino molto molto famoso, che parla della guerra, è l'Ultima Notte Bianca di Natale, eccetera, e io trovo questo brano uno dei più belli di tutto il disco, nella sua semplicità melodica e ci sono alcune soluzioni di arrangiamento veramente geniali. Proviamo ad ascoltarlo. La notte Bianca di Natale è l'Ultima Notte, di ridurre i tuoi. E la�ità è l'Ultima Notte, E gli assediati provvistano ricurvi le rovine. Tutti perdenti, la notte infine porterà consiglio. Nel suo protrazio, per un millennio ancora, per un millennio ancora. Era la notte bianca di Natale, ed era l'ultima notte degli anni. Tutto la pace a illuminarla di te, e pure stanza all'ombra di una voce. Quietamente, nel buio senza umane interferenze, il firmamento risplende di trionfali indifferenze. Impotenti, resistere sembrava fuori luogo. Consolante, che manchi così poco, ci manchi così poco. Dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' la chitarra alla fine che sembra ascendere all'infinito e c'è questo contrapunto di pianoforte. Ma vorrei chiedere a Johnny, il nostro esperto residente, tu come lo chiameresti questo genere, premesso che io odio i generi? Sono concordo, infatti non gli do un nome. Per me c'è musica, non ti dico musica pura e musica corrotta come citavi poco fa, ma musica che ti emoziona e musica che no. Questa è pura emozione. Tra l'altro mi ricorda sempre la parte finale, la coda strumentale, specialmente quella chitarristica, mi ricorda l'altro strumentale del primo disco, tanto per trovare parallelismi con Abbiamo pazientato. E' qualcosa di clamoroso. Me ne può fregare di meno a me personalmente. Poi a volte per far capire magari qualcosa di cui sto parlando in un mio video, qualcosa l'accenno, qualche termine l'accenno, ma alla fine secondo me lascia il tempo che trova. Certo. Volevo chiedere invece a Simone, che è il nostro esperto di immagine in questo contesto, ma perché secondo te all'interno di questo genere di musica, e non mi riferisco solo a Heidi Schistein, mi riferisco anche a esperienze totalmente diverse? Cito una, il Dead Can Dance, ecco se vogliamo, gruppo pazzesco e clamoroso, duo se vogliamo. Come mai l'iconografia spesso tende a destra, diciamolo chiaro? Allora, dimettiamola così, c'è una fortissima fascinazione per l'estetica dei totalitarismi. Essendo un amante dell'estetica dei totalitarismi, compresa l'estetica della Corea del Nord degli ultimi anni, che secondo me è meravigliosa, ti dico che è dovuto al fatto che tendenzialmente l'estetica di tutto ciò che è stato totalitario, della propaganda totalitaria, è tendenzialmente molto bella. È vero, è verissimo, certo. O un cappello, o un simbolino, o un allorino, perché vende dei dischi. Quello che hanno fatto i disciplinata primi di Sine Dovo è molto molto diverso. E mi riallaccio anche al discorso mambro o non mambro, detto che quella frase secondo me andava comunque contestualizzata a quel periodo, e ragionarci adesso è un pochino più complicato. Quello che è sempre stato fatto nei confronti dei disciplinata è definirli dei provocatori, che è un ottimo modo per disinnescare il linguaggio estetico e musicale di disciplinata e dei dischi. Perché comunque stiamo parlando delle stesse teste che hanno continuato a funzionare, per fortuna nello stesso modo evolvendo. E questo secondo me è un disinnescare la potenza di quello che fanno, ma anche non capirlo e non arrivarci. Detto che è molto difficile capirlo, cioè capire cosa passava per la testa di Dario, cosa passa per la testa di Cristiano, ma anche cosa passa per la testa di uno come Alessandro Cavassa, che qui stasera delle volte è difficile, perché quando pensi di averlo capito, loro nel frattempo sono già avanti e stanno già pensando a qualcos'altro. Però dell'estetica dei disciplinati di Dici Slime, solo ed esclusivamente provocatoria non c'è mai stato niente. Io mi ricordo, per farti un esempio, che quando è stato deciso di mettere dei pezzi di rottami, di ruderi, di cemento, dentro al cofanetto, il mio primo istinto è stato, è una provocazione fino a se stessa. Poi in ore e ore di riflessioni e di chiacchierate con Dario ho capito che c'era molto più dietro, che c'era una sofferenza molto forte e credo c'era tanta diversità fra quello che è la ricerca estetica, oltre che musicale e ideale di Dario e dei Dici, rispetto a quello che magari si può trovare nell'ambiente, che è onestamente marketing del totalitarismo, per trovare una definizione, perché comunque vende molto, molto. Certo, certo. Ma Alessandro, io volevo chiedere a te, riallacciandomi a questo discorso di Simone, poi qui si aprirebbe veramente un universo, perché ci servirebbe non un'altra trasmissione, ma un'intera rete per approfondire la cosa. E se non sbaglio, nel tuo film, proprio Dario, a un certo punto cita Pasolini e dice è come dire a Pasolini, cioè il famoso scandalo del film Salò, che a un certo punto l'arte si deve fermare. Questa era la... Mi sembra che nuclei molto bene in poche parole il suo pensiero e soprattutto l'espressione che fa alla fine, dopo aver pronunciato questa frase, che è del tipo, cosa vuoi dire davanti a un'affermazione del genere, insomma, o sbaglio? No, no, allora, quello, devo dire, TVD canta in questo senso, ma con Dario essenzialmente abbiamo tante volte parlato, ad esempio, del totalitarismo, del politicamente corretto, cosa che lui detestava, ma da un certo punto di vista, sia io che Dario, a maggior ragione, il buon Poletti, dobbiamo ringraziare il politicamente corretto, perché dà un gusto infinito e rende tutto assolutamente denso di, come dire, di ardimento. Pensa che oggi delle cose banali sono diventate proibite, quindi insomma, c'è tutto materiale, era tutto materiale per Dario, tutto materiale per un pollo, e quindi tante volte abbiamo, con un meme che ci mandavamo, piuttosto che con una battutaccia, piuttosto che con qualcosa invece di più artistico, abbiamo fatto queste riflessioni. L'arte si deve fermare, boh, non lo so, forse sì, forse no, sicuramente l'arte brutta si deve fermare, per quanto mi riguarda, togliendo i P38 di Reggio Emilia, io vieterei la trappa. Ah beh, spero che siamo tutti concordi su questo, ma guarda che c'è qualcuno, non voglio far nomi, ma se cercate, sulle mie pagine Facebook lo trovate, qualcuno che toglierebbe addirittura un campionamento dei discesani. Io ho usato un piccolo loop dalla chiave della libertà, con il tacito consenso di Cristiano, perché mi serviva proprio quella frase, era una questione puramente estetica, era perfetta per quello che volevo fare. Gli ho detto, guarda che l'ho usata, hai obiezioni, non mi ha mai risposto, quindi non avevo obiezioni, semplicemente. E se tu vai a cercare, quando io ho pubblicato un frammento di questa cosa, citando giustamente di Schisnein, qualcuno si è preso la briga di scrivere peccato per il gruppo, e non era un'affermazione estetica, era un'affermazione politica, che dal mio punto di vista denota, scusatemi, vette i malayane nel non capire una fava delle intenzioni di qualcuno. Scusate, perché c'è un limite a questo. E mi sono non risentito, ma ancora una volta, battuto la mano sulla fronte davanti a... Io non lo so, però la mia impressione, per dirla chiara, è che un gruppo, come dice Schisnein, ma anche come disciplinata, avrebbe avuto vita molto più facile in un'altra nazione. Perché se c'è una cosa che noi italiani siamo specialisti a fare, è la polarizzazione. Cioè partire da una cosa piccolissima a volte e costruire una piramide pur di contrapporla a qualcos'altro. E questo vale in senso politico, in senso artistico, in senso culturale. Non so. Come sarebbero stati, Alessandro, in disciplinata in Inghilterra, per dire? Sarebbero stati una cover band. In realtà gli arditi possono nascere soltanto sul Piave. Questa me la segno. Ho fatto un festival a 50 metri al Piave per quattro giorni, quindi mi sento ardito. Lo confesso. Ma è così. Il senso è proprio questo. In realtà noi molte volte parlavamo ma come sarebbe andato? Poi a me piace molto la storia controfattuale, la storia alternativa. In realtà che è indisciplinata senza l'Italia non sono indisciplinata. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Poi è proprio il nostro essere italiani che riusciamo a creare una cosa straordinaria come disciplinata e poi a ignorarla o a farla morire. Quindi siamo così. Ragazzi, io adesso... Guarda Marco, una volta... Dimmi, scusa. Una volta Alessandro Cavazza ha detto una cosa che per me è illuminante. Ha detto l'Italia è un posto meraviglioso se ti arrendi. Ecco, il problema di Dario è che non era disposto ad arrendersi. E la cosa interessante è che però se non sei disposto ad arrenderti può diventare molto divertente l'Italia. Assolutamente. 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 Allora, questo stai dicendo una cosa che è umanamente molto vera. Dario non ho potuto purtroppo seguirlo negli ultimi giorni di vita ma non si è mai arreso neanche davanti alla sua malattia. Questo lo dobbiamo sottolineare. E ne parlava tra l'altro con una lucidità sconcertante. Questa è stata la mia esperienza. Il mio ultimo messaggio con lui risale al 28 aprile e aveva già detto ho due alternative un'odissea nel caso più roseo l'altra la conosci. Questa è stata le ultime parole che mi ha scritto in pratica. Quindi mi dà abbastanza i brividi questa cosa ma era veramente incrollabile da quel punto di vista ecco non so se anche voi avete avuto magari più da vicino la stessa sensazione. Guarda io l'ho visto a più riprese in ospedale in diverse fasi diciamo degli ultimi 15-16 anni questa volta era combattivo ma con meno munizioni di carattere fisico l'unica differenza al punto di vista dello spirito no all'inizio di questo suo ultimo ricovero mi ha dato questo messaggio come sempre spettacolare divertentissimo diceva ma è possibile che faccia la guerra sempre quando io sono in ospedale solo Dario poteva fare la cosa del genere nel 2003 nel 2011 con la Libia nel 2002 con il trae no gli sarà mica avvenuto il dubbio magari porto sfiga cioè voglio dire insomma no in realtà adesso faccio un discorso serio che potrà sembrare un discorso un po' metafisico ma io sono profondamente convinto che in un qualche modo Dario avesse un diretto rapporto con la civiltà europea e quindi in questo caso specifico forse non è neanche così casuale che muoia proprio adesso eh certo sentite ragazzi io ho bisogno di una votazione da parte vostra vi spiego perché è stato perlomeno per me così piacevole questa chiacchierata e purificatoria anche per certi versi che stiamo andando molto lunghi io posso andare anche fino a due di notte ma non vorrei cioè vorrei rispettare un po' il mio format il problema è che su sei brani ne abbiamo ascoltati tre e quindi cos'è che manca ci mancherebbero nell'ordine Machtfrei Eva e Finale Finale che è un finale semplicemente ecco ma non credo che possiamo ascoltarli tutti piuttosto che ascoltare un frammento però preferirei sacrificarne due e ascoltarne uno lo mettiamo ai voti cosa 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 mandiamo vediamo Johnny cosa io voto Eva perché c'è anche la Cevolani ok giustissimo e Simone posso astenermi da non musicista dai Machtfrei perché così facciamo decidere Cavazza ok è che sembra un agguato a Johnny ma anch'io avrei votato Machtfrei io mi assengo per definizione allora direi che ascoltiamo Machtfrei e lo manderei subito maledetti d'accordo puoi ascoltarti Eva a parte aspregio mi dispiace per Valeria però effettivamente avevi ragione però purtroppo siamo stati così ci siamo espansi sentiamo Machtfrei comunque a parte Feministrike Occupy Gay pride Business She wouldn't mind I.N.S. Box pride E.C.B. Box pride No future Box pride I.N.S. Box pride E.C.B. Box pride Fast and Future Box pride Migration of souls Deportation of souls Box pride Migration of money Box pride Migration of money Box pride No future Now future Box pride I.N.S. Box pride E.C.B. Box pride Post Post Future Lothpry I.C.B. 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 No, future, no, future, no, future for me No, future, no, future, no, future for me questa voce di bambina che canta come può cantare una bambina i Sex Pistols dicendo No Future For Me è veramente non so trovare l'aggettivo strassi sì ma inquietante cioè dolorosa ecco veramente è forse la cosa più punk di questo disco che punk non è in realtà comunque ragazzi sentite in questo preciso istante siamo a un'ora e trenta la trasmissione sarebbe finita e chiedo scusa a tutti quelli che magari vogliono sentire tutto il disco ma due brani sono saltati perché in quattro ci siamo espansi speriamo di non essere stati noiosi ma distinto direi di no io vorrei concludere con un pensiero e ringrazio veramente vi abbraccerei se fossi lì insomma Johnny Simone e anche e anche Alessandro perché ormai tempo vola incredibile ma domani sarà una settimana che Dario è mancato e vi dico come l'ho saputo io io stavo a questo festival che abbiamo fatto a Salgareda in provincia di Treviso in pieno spettacolo di Cristiano Godano e mi ero dimenticato di mettere il telefono in silenzioso e poco prima delle 10 di sera è suonato io mi sono maledetto perché stavo disturbando tutti classica mossa lo tiro fuori per chiuderlo con violenza ho visto che mi stava chiamando Cristiano Cristiano Santini e ho capito subito sono corso fuori e Cristiano può testimoniare non ho avuto parole non sapevo davvero cosa dire mi sono portato dietro questo peso per tutto il festival anche se poi è stato un festival molto bello dal mio punto di vista sono stato io a dirlo Cristiano Godano a concerto finito perché era la stessa scuderia diciamo quando quando i Marlene Kunz cominciarono la loro carriera e ci è rimasto malissimo ci sono rimasti malissimo tutti gli artisti è comprensibile ma devo dire ho svoltato con voi questa sera per questo vi ringrazio nel senso che così parlarne insieme per me è stato molto bello e credo che siamo riusciti a dare almeno parzialmente un'immagine di una persona indubbiamente complessa ma indubbiamente ricchissima se siete d'accordo concludete voi con una battuta perché ho detto sostanzialmente tutto quello che dovevo dire ecco parto io visto che rispetto l'ordine allora intanto ti ringrazio Marco per l'invito mi ha fatto molto piacere anche a me ha fatto bene parlare di Dario dopo diversi giorni in cui non ci credevo anche se poi alla fine lo sapevamo insomma quelli che sono qui stasera lo sapevamo che sarebbe arrivata la notizia però ovviamente speri sempre che invece le cose possono migliorare possono svoltare così non è stato ce lo portiamo nel cuore sono le solite frasi fatte ma sono vere la cosa bella è che stasera abbiamo potuto anche ridere delle battute di Dario perché lui ne sarebbe stato contento chiudo facendo un appello a tutti gli artisti a tutti i contatti nostri eccetera eccetera spero di ma c'è già qualcosa mi confermava Alessandro l'idea di fare qualcosa per Dario per Dario per la sua musica per i disciplinati di She's Line qualcosa che rimanga ovviamente il mio campo è quello visivo è quello video quindi poi a prescindere da quello che verrà fatto in comunità io lavorerò in quel senso e voglio esortare chi non conoscesse a fondo la loro musica a recuperare prima possibile per farsi del bene a se stessi il cofanetto in vinile la biografia di Giovanni Rossi e il documentario di Cavazza che trovate su youtube perché sono delle opere fondamentali insomma per crescere musicalmente e umanamente ma grazie Johnny che hai fatto questo appello a parte che sono molto soddisfatto di me stesso nel risponderti ce l'ho ce l'ho ce l'ho quindi ecco non devo procurarmi nulla perché ho già queste tre cose che sono i tre pilastri indubbiamente ed è bellissimo che abbiamo qui il regista di quel film ecco Alessandro grazie davvero e sono totalmente d'accordo sarebbe bello fare qualcosa a livello di comunità e semplicemente io per quello che è la mia competenza ci sono e a dirvi la verità io una mezza idea ce l'ho ma per il momento me la tengo per me perché devo prima parlare con Cristiano assolutamente è doveroso nel senso che mi serve un un imprimatur diciamo e non è adesso chiaramente il momento certo per forza di cose Simone intanto grazie grazie mille a te Marco e Alessandro a Johnny e a tutte le persone che ci hanno ascoltato condivido assolutamente l'appello a procuratevi tutto quello che potete di disciplinata e di fisnani ascoltatelo con attenzione è stato io credo che sentiremo la mancanza di Dario a lungo termine nel senso che mi mancherà quella telefonata ogni tot in cui si incominciava a pensare a dei progetti a delle cose mi mancherà scoprire che ne avrà superata un'altra questo mi mancherà tantissimo e sentiremo a lungo termine molto la mancanza di una testa come quella di Dario non credo che si possa prendere il posto di Dario ma spero che questo stimoli tanti artisti italiani a fare qualcosa per quantomeno evocarne lo spirito ecco mettiamola così quella la voglia di non di non arrendersi di cui di cui parlavamo prima grazie grazie Simone e lasciamo la conclusione ad Alessandro a questo punto guarda io devo dirti la verità questo è un programma di ambito un po' musicale anzi musicale io sono sempre stato negli ultimi dieci anni abbastanza a disagio a parlare di musica perché ho conosciuto Dario come artista e musicista credo che abbiamo parlato di musica forse nel primo quarto d'ora tutto il resto erano massimi sistemi civiltà geopolitica religione con una quantità enorme di scherzi ho fatto conoscere dei personaggi straordinari come come politiche apparentemente ostile spigoloso come Dario poi un tenerone tatuato quindi Dario è stato veramente una finestra un aggregatore di intelligenze inquiete nel quale mi pregio a questo punto di di essere parte per il tramite di Dario perdiamo tutti un amico al di là dell'arte che oggettivamente davanti a Dario è il meno più d'altro perdiamo un amico che nel quotidiano sapeva elevarti e buttarti giù il grande orgoglio che ho di avergli tenuto testa grazie grazie Alessandro e finisco come non avrei mai pensato di finire 30 secondi fa ho ricevuto su Facebook un messaggio di Christian Palombi che vi leggo integralmente perché è la miglior chiusura per questa serata proprio così come è scritto complimenti 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 bella serata in compagnia del nostro amico Dario a nome del coro Monte Calisio volevamo a lui un bene dell'anima in alto i cuori meglio di così non potevamo chiudere se volete saperlo così chi ha pruriti se li gratta il cuore che segue è nero perfetto è meraviglioso in alto i cuori ecco e spero che questa mia ironia nell'ironia venga accolta ragazzi un abbraccio collettivo anche se virtuale grazie grazie davvero credo che sia forse nella sua inevitabile tristezza la miglior puntata di questa trasmissione finora e anche e soprattutto merito vostro io chiudo salutando tutti senza sigla come ho iniziato perché credo che sarebbe completamente fuori luogo suonare qualsivoglia altra musica che non fosse quella dei 10's 9 o dei disciplinata se fosse stato questa sera grazie mille e a mercoledì prossimo un abbraccio a tutti grazie mille